Allora, buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento settimanale con la lanterna di Diogene. Questa sera ritroviamo un nostro relatore, quindi Matteo Manfredini e anzi lo ringraziamo per aver scelto di tornare, per parlarci della religiosità nel Reggiane, per parlarci sostanzialmente di quello che è stato il suo studio e la sua ricerca, quindi della sua pubblicazione. Come sempre io vi ricordo i prossimi appuntamenti, vi ricordo lunedì 29 l'appuntamento col Professor Giovanelli su il gastadato di Bismantova e vi ricordo che dopo quell'appuntamento ci sarà la nostra pausa pasquale. Riprenderemo gli appuntamenti il 12 di aprile con il Professor Ugo Pellini riguardante la storia degli arberi di montagna. Allora, questa sera come vi ho detto ritroviamo Matteo Manfredini che ci ha già portato attraverso una tematica piuttosto perigliosa, ossia quella del negazionismo dell'Olocausto, questa sera lo ritroviamo come guida, guida attraverso il suo libro, attraverso le religiosità nel Reggiano, quindi le varie religioni presenti sul suolo reggiano. Quindi rinnovi i miei ringraziamenti a Matteo Manfredini e ora vi lascio tranquillamente alla sua presentazione. Grazie Thomas, anzi grazie a voi per l'invito a tutta l'associazione, insomma è sempre un piacere essere vostri ospiti, poi insomma vi seguo anche quando non sono io a parlare e fate sempre cose molto interessanti. Allora stasera parliamo, facciamo un po' una panoramica sulle nuove religioni sorte sul territorio reggiano degli ultimi 30-40 anni, io ho scritto un libro circa due anni fa dopo una ricerca che è durata diversi mesi in cui ho incontrato tante comunità religiose a Reggio Emilia e questa ricerca poi è finita in un libro che si chiama Le foglie dell'albero e stasera un po' ripercorriamo le pagine di questo libro, nel senso che mi aiuterò con questi iscritti per cercare di fare un po' una panoramica, poi dopo il libro affronta anche aspetti più teologici diciamo così, però il tempo è quello che è, cercheremo di fare una cosa, come dire, un po' veramente un elenco e poi eventualmente anche con le persone dal pubblico, le persone che si stanno guardando affronteremo magari alcuni temi, insomma i temi che ritengono più interessanti. Io ho fatto questa ricerca perché sentivo un po' il bisogno di cercare di informare le persone per queste nuove realtà che stanno emercendo a Reggio Emilia perché spesso sono legate all'immigrazione, non sempre però, e sono fenomeni che sono sempre più diffusi e quindi è bene conoscerli e farli conoscere. Ci tengo a dire che la mia ricerca non è una ricerca esaustiva, è enciclopedica, quindi ci sono alcuni gruppi religiosi che sono stati lasciati fuori, ma non c'è nessun giudizio di merito in questo, ma semplicemente perché erano o troppo piccoli o ancora poco radicati, insomma, spero che, insomma, quello che io spero è che questa ricerca sia poi da premessa anche ad altri studi, diciamo così. Penso che però sia qualcosa di fondamentale capire l'altro. Però io non sono convinto, non sono sicuro, ecco, diciamo così, del dialogo interreligioso, nel senso che quando ci si avvicina a questi temi bisogna sempre fare molta attenzione, nel senso che ci sono aspetti teologici molto importanti che non possono essere messi in discussione, ed è per questo che il dialogo si ha tra due persone, quando la persona che si è di fronte si è convinta che gli abbia un ingrediente di verità superiore al nostro, se io ho la verità faccio fatica a dialogare con qualcun altro. Però questa è una, così, non è neanche una mia convinzione, spero di essere smentito dai fatti, ma questo non toglie il fatto che però sia assolutamente fondamentale conoscersi, perché se non ci conosciamo, penso che la fonte di tutte le tensioni spesso sia proprio il fatto di non conoscersi, e il fatto che questa non conoscenza venga poi sfruttata a fini politici. E quindi, insomma, ho cercato di, così, nel mio piccolo, di coprire un buco, perché effettivamente, per quanto riguarda la conoscenza di altre religioni, penso che nel nostro paese, e non solo, ci sia molto da fare. Così sono andato un po' con gli strumenti del giornalista, non tanto quelli dell'esperto di religioni, ma grado, insomma, abbia avuto la fortuna di viaggiare, e questo mi ha portato a conoscere tante religioni molto interessanti, e che non ho potuto neanche trattare qui, però, forse, da un lato, quindi la curiosità è un po' un minimo di esperienza, proprio così, di prima mano, ma senza, ecco, senza nessun tipo di pretesa di raccontare nuove verità, o cose che non, insomma, quando le cose si facevano troppo complicate, onde evitare di scrivere cose, magari giuste, ma interpretabili, in maniera, insomma, cose che andavano approfondite in diverse pagine, non in poche righe, ho sempre preferito, così, non fare soltanto un richiamo. E così, appunto, sono partito, facendo proprio una sorta di elenco, no, di tutte le religioni più importanti, che sono sorti la Germania negli ultimi 30-40 anni, e andando a cercare i centri religiosi e incontrando queste comunità, sostanzialmente. Quindi, così, seguendo un po' i capitoli del libro, sono iniziato con, adesso, anzi, apro i capitoli del libro qui di fianco, che così mi ci ritrovo, perché altrimenti anch'io ho qualche difficoltà a... eccoci qua, ok. E così ho iniziato, dicevo, ad avvicinarmi a queste comunità, che effettivamente io non, insomma, ne ho sentito parlare, ma non conoscevo. La prima realtà che ho incontrato, proprio all'inizio del percorso, sono state quelle dei cristiani ortodossi, quindi, così, quelli che vengono un po' definiti, i cristiani orientali, no? Anche se poi dopo, in realtà, non è propriamente così, però, insomma, è una definizione che ci può stare. A Reggio Emilia ci sono, nella provincia di Reggio Emilia, ci sono tre chiese importanti, per quanto riguarda le comunità ortodosse. sono la chiesa del Cristo di Reggio Emilia, che è una chiesa molto bella, proprio nel centro storico di Reggio, in cui si riunisce soprattutto la comunità degli ortodossi rumeni-moldavi. Dopodiché c'è una comunità importante anche a Novellara, una comunità che si trova dentro la chiesa della Beata Vergine, il popolo di Novellara, e sono circa 11-12 anni che c'è questa comunità. E poi, infine, la comunità di San Zenone, anche questi sono cristiani ortodossi, che si incontrano presso questa chiesa, anche questa al centro di Reggio. Poi esistono altre piccole comunità, però queste sono le principali. Noi sappiamo che la storia dell'ortodossia condivide un lungo percorso con tutta la cristianità, e sostanzialmente la frattura vera e propria avviene nel 1054, avviene principalmente per questioni politiche, quindi per il fatto che la chiesa orientale non riconosce la superiorità del Papa, e vengono portate in superficie vecchie dispute teologiche. Quello che è interessante in questo caso è che in fondo questi scontri tra il Mediterraneo orientale e il Mediterraneo occidentale erano scontri che andavano avanti da molto tempo, e poi dopo nel 1054 effettivamente avvenne lo scisma vero e proprio. Quello che è interessante raccontare del cristianesimo ortodosso, ci sarebbe molto da raccontare sul cristianesimo ortodosso, a partire dalla loro ritualità, nel senso che per loro è estremamente importante il rito, il rito è qualcosa di assolutamente importante, la messa è una messa cantata, spesso, anzi non spesso, quasi sempre nelle lingue locali, infatti è stato questo il grande vantaggio nella evangelizzazione, così se vogliamo dire, dei cristiani ortodossi, proprio quello di parlare al popolo nella propria lingua, nella lingua locale. Quindi, ripeto, quello che è molto interessante dal punto di vista così teologico, sono quando si entra in una chiesa, per esempio quando si entra in queste chiese che ho menzionato prima, è stato anche fatto proprio un cambiamento dal punto di vista strutturale dentro la chiesa, e quando noi andiamo dentro la chiesa ortodossa vediamo che per esempio durante la cerimonia il prete ha la schiena rivolta ai fedeli, non parla verso il popolo, come invece succede nelle chiese cattoliche, questo è una cosa che è un cambiamento recente nel cattolicesimo del Concilio Vaticano II. Poi dopo abbiamo una grande iconostasi al centro, dove sono tutti questi registri diversi, dove ci sono diverse figure di santi e personaggi importanti della tradizione cristiana, ed effettivamente questo è come dire, solamente il prete ha la possibilità di entrare al di là dell'iconostasi durante la cerimonia, perché è proprio un limite, è un limite tra la sacralità, è proprio quasi una cosa molto bella da vedere, perché effettivamente si vede che il prete sta proprio a metà tra il sacro e il non sacro, dove ci sono anche i fedeli. Io consiglio di andare ad assistere a queste cerimonie, che sono quasi sempre la domenica, ma non solo, anche altri giorni, non li dico perché probabilmente saranno cambiati, poi adesso in tempo di pandemia non si potrà neanche, però invito davvero ad assistere a una cerimonia, perché è molto suggestiva. Le dicevo prima il rito è molto importante, il canto è molto importante, i sacerdoti cantano, ed effettivamente ci sono sacerdoti come padre Genaid di Novellara, che sono dei bravissimi cantanti, ed è proprio attraverso questo canto durante la liturgia che rimbomba nella chiesa, che la cerimonia assume veramente una grande sacralità. Quello che noi tutti notiamo nelle chiese ortodosse, soprattutto per chi magari ha viaggiato nell'est Europa, sono le innumerevoli icone alle pareti, e le icone effettivamente sono espressioni artistiche che vengono profondamente venerate da parte del fedele. Chi è stato in paesi di maggioranza ortodossa, spesso vi sarà capitato di vedere questi fedeli che baciano le icone, che si inginocchiano davanti alle icone. Spesso e volentieri le icone che noi abbiamo nelle chiese di Reggio Emilia sono icone che sono state portate dai fedeli e che vengono spesso da importanti monasteri dell'Europa orientale. Quello che è importante sottolineare sulle icone non è soltanto la bellezza di questi oggetti, che effettivamente sono molto belli, sono di alto valore artistico, ma è il significato simbolico che essi rappresentano. Perché le icone contengono quella potenza che gli permette di rendere Cristo presente. Quindi l'icona è una forma artistica che è prima di tutto una forma artistica ideologica. E la fede dell'esecutore ha un'importanza fondamentale. L'icona ha un significato liturgico per i cristiani ortodossi. E aggiunge al messaggio della parola anche il simbolo. Quindi le icone sono sostanzialmente un'incarnazione della preghiera. Cioè il concetto, la costruzione teologica che c'è dietro questo oggetto è molto complessa. Ed esprime addirittura il mistero di Dio. Ed è per questo che si vive con tante intensità. Ed è per questo che si inginocchia davanti alle icone. Ed è per questo che si esprime la propria fede cristiana davanti alle icone. Ed è anche il motivo per il quale un'icona non può stare in nessun altro luogo se non in una chiesa. Un'icona dal punto di vista teologico in un museo o in una galleria non ha un significato. o quantomeno non ha un significato religioso. Perché nell'iconografia viene la sintesi della cristologia ortodossa della quale non ci possiamo soffermare perché insomma è un discorso complesso nel senso che sostanzialmente è l'ipostasi divina del figlio che cioè l'incarnazione del Cristo che porta al mondo oltre alla sua parola anche la sua immagine e quindi si rende rappresentabile. Mi sono soffermato sull'icone perché personalmente la trovo come dire una una parte particolarmente forte della della io ho cercato di soffermarmi in questo libro non soltanto faccio una breve parentesi non soltanto sulle questioni più così politiche e teologiche ma anche proprio più ma sì anche teologiche perché ci sono ma più sul rapporto tra fedele e fede più sul rapporto perché è qualcosa che quando si parla di altre religioni si tende sempre a mettere in un secondo piano si da sì possiamo parlare dei motivi delle differenze teologiche anche no quindi dell'assenza del purgatorio della questione del del padre dello spirito santo che scende dal palco sono questioni molto complesse però io nel libro mi sono soffermato anche su queste cose quindi le icone qui abbiamo parlato delle icone dovremmo parlare di tante altre cose il tempo è quello che è però le icone hanno questo grande messaggio nella 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 religione nella religione ortodossa sappiamo anche che si parla sempre di di chiese ortodoxe perché effettivamente le chiese sono legate a patriarcati diversi per esempio quella di San Zenone è legata a Costantinopoli e infatti è un po' come dire la chiesa di San Zenone è dove c'è padre Michael che dice messa e raccoglie un po' le come dire gli ortodossi provenienti da realtà diverse diverse dalla Romania diverse dalla Russia quindi insomma è una chiesa un po' un po' particolare lui parla diverse lingue tra le altre cose anche recita la liturgia in in diverse in diverse lingue esistono anche altre piccole comunità ortodossi questo va detto in particolare quella georgiana che è più o meno a 150-200 fedeli i quali non hanno ancora un luogo di culto fisso e quello che è interessante della Georgia è che furono i primi la Georgia fu uno dei primissimi dei primissimi luoghi assieme all'Armenia in cui il cristianesimo divenne religione di stato e grazie grazie alla predicazione di Santanino infatti se uno va in Georgia Santanino che è una santa Santanino si trovano sui riferimenti dappertutto quello che è importante è che magrado ci siano tante chiese ortodosse quindi la chiesa ortodossa rumena ho detto prima la chiesa ortodossa russa esistono liturgie in diverse lingue ma c'è una forte unità dogmatica e spirituale e teologica che è una caratteristica fondamentale delle chiese anche delle chiese particolari è una chiesa interessante perché molta cura viene data ai problemi spirituali dei credenti più importante delle questioni di carattere sociale a volte come se l'essere prevalesse sul fare questo è un elemento importante a Reggio Emilia c'è anche un'altra realtà importante da menzionare per gli ortodossi che sono la comunità cristiana copta è un gruppo di fedeli che si riunisce nella chiesa di San Domenico a Reggio Emilia ed è una realtà particolare perché in Italia sono poche le chiese ortodosse le chiese copte chiedo scusa Reggio Emilia per esempio si chiama Bologna a forma una parrocchia la tradizione copta è una tradizione molto antica è custodia di un retaggio antichissimo chi è stato a Gerusalemme avrà visto vicino a Santo Sepolcro che c'è anche una grossa un'importante comunità copta e dove entrare dentro una chiesa copta effettivamente è qualcosa di insomma è una religiosità assolutamente potente perché viene usato durante la liturgia viene usato ancora oggi il copto antico che è una lingua risalente al terzo secolo una lingua antichissima pensiamo che Jean-François Champollion utilizzò proprio il copto per tradurre i geroglifici potremmo anche qui parlare c'è un prete che si chiama Padre Armia a Reggio Emilia nella chiesa di San Domenico si trovano due volte alla settimana se non sbaglio le differenze principali sono dal punto di vista diciamo così cristologico nel senso che qui però in un qualcosa di un po' complesso nel senso che la cristologia si occupa della natura di Gesù Cristo nel senso che Gesù Cristo c'erano due natura quella divina e quella umana e sostanzialmente la cristologia si occupa di capire quale delle due nature fosse quale fosse la natura quella prevalente o se erano uguali come perché quindi questo è come dire quello che può caratterizzare così in maniera molto grossolana le la chiesa la chiesa la chiesa copta e quanti minuti siamo perché ci sono diversi siamo già 21 quindi insomma sto andando forse un po' un po' troppo lentamente e dopodiché mi sono occupato sempre a Reggio Emilia del protestantesimo e soprattutto del pentecostalismo perché noi sappiamo insomma sappiamo più o meno la storia del protestantesimo di martin lutero del fatto che la parola di dio ovvero la bibbia non aveva bisogno della mediazione doveva essere un'esperienza personale e sul fatto che la salvezza era un dono del cielo e poteva essere perseguita dai fedeli solamente attraverso la fede e dopodiché il protestantesimo ha avuto diverse declinazioni a Reggio Emilia ci sono delle comunità importanti evangeliche le comunità evangeliche sono molto difficili da tracciare perché spesso sono insomma si uniscono anche su base spontanea su base linguistica ci sono dei gruppi evangelici che poi dopo pochi mesi soprattutto africani o sudamericani che poi dopo pochi mesi scompaiono quindi si fa fatica a trovare un come dire a fare veramente a stilare un elenco completo io mi sono così avvicinato un po' di più alla comunità pentecostale di Reggio Emilia che hanno una chiesa hanno una chiamarla chiesa forse non è neanche proprio perché insomma hanno questa sala dove loro leggono soprattutto la parola di Dio in via Bligny e insomma quando si va in queste cerimonie effettivamente c'è molto pathos nel senso che comunque ci sono espressioni di fede spontanea ci sono espressioni di fede molto sincera anche tonanti che coinvolgono anche tutti i fedeli insomma magari li abbiamo anche visti sono cose che vediamo magari un po' di più soprattutto ai pentecostali americani quando si vedono queste grandi adunate con questi predicatori dove effettivamente c'è molta si invoca sempre la presenza dello Spirito Santo ecco lo Spirito Santo è qualcosa di assolutamente centrale per i pentecostali dove effettivamente durante queste cerimonie l'attenzione emotiva è molto è molto è alta è palpabile insomma ci possono però delineare alcuni principi condivisi magrado le le varie diverse comunità pentecostali non esistono a Reggio Emilia dei protestanti veri e propri cioè non è che esiste un gruppo di luterani per intenderci ce ne è anche di Valdesi mentre invece esiste a Parma quindi parliamo del primo protestantesimo questo questi di pentecostali è un protestantesimo successivo è una declinazione successiva del protestantesimo tant'è che gli studiosi di storia delle religioni parlano per esempio di secondo anche di terzo protestantesimo per appunto definire questi nuovi gruppi che emergono però in una realtà che comunque è protestante ci sono alcuni principi che si possono condividere che si possono tracciare che hanno come dire ci possono delineare dei principi condivisi dicevo prima e che prima di tutto è l'importanza dello Spirito Santo è attraverso lo Spirito Santo che il fedele acquista una nuova forza e un nuovo rapporto diretto con Dio è un fenomeno effettivamente molto simile a quello delle lingue di fuoco che erano scese sui discepoli e che viene celebrato ancora oggi dai cattolici il giorno della Pentecoste e che è un evento importante perché inizio alla predicazione universale del cristianesimo ecco per i pentecostali quell'attività carismatica degli apostoli è ancora attuale è ancora attuale e non è semplicemente un episodio della storia questo centro che ho che ho visitato si chiama Betania anche importante dare dei nomi e fa parte delle assemblee di Dio in Italia non è l'unico centro nel Reggiano è il più grande io ero stato una domenica sera per una cerimonia e effettivamente c'era molta gente oltretutto noi dobbiamo considerare che dicevo prima chiamarle chiese perché non sembra una una chiesa sembra più un teatro no? anche questo è importante da sottolineare quando noi passeggiamo per esempio per i villaggi della Scandinavia che sono i posti dove l'utteranesimo insomma ha si ritrova ancora oggi in tanti edifici religiosi per esempio da fuori questi edifici non sono tanto diversi da chiese cattoliche costruiti in legno come si possono trovare per esempio in Trentino con il tetto spiovente e un alto campanile però quando si va all'interno si iniziano già a notare le prime differenze rispetto ai luoghi di culto cattolici l'ambiente più spartano non ci sono i santi ci sono pochissime immagini raffigurate ci sono poche immagini che raffigurano la vita di Cristo al limite in quelle luterane poi se andiamo verso più a sud diciamo così verso la Svizzera dove il calvinismo oppure in Ungheria dove il calvinismo ha fatto molti proseliti nei secoli le chiese sono ancora più spartane gli interni sono ancora più spogli e severi e nessuna immagine è presente e addirittura anche il croce fisso non ha più il Cristo ma semplicemente una croce e questo è quello che troviamo anche per esempio tra i pentecostali dove la parola diventa la cosa più importante tutti i fedeli hanno in mano una Bibbia per esempio se c'è qualcosa interrompimi perché io non vedo lo schermo Thomas del computer dopodiché siamo a quanti minuti sempre dopodiché 27 dopodiché io faccio un breve scurso su una minorante scomparsa a Reggio Emilia che sono gli ebrei reggiani Reggio Emilia aveva diverse comunità ebraiche quella più famosa era quella che era dentro al ghetto a Reggio Emilia c'era un ghetto che più o meno è la sinagoga in via dell'Aquila e il ghetto era in quella zona è una storia molto antica quella della presenza ebraica a Reggio Emilia le prime tracce risalgono al 1400 quando un gruppo di ebrei originari della 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 Romagna si mosse lentamente lungo l'Emilia e dopo essere passati da Ferrara e da Modena si si installarono anche anche a Reggio Emilia ma non solo perché poi dopo c'erano famiglie ebraiche comunità ebraiche scandiane a Guastalla a Correggia a Montecchio oggi sostanzialmente non ci sono non c'è più una comunità ebraica a Reggio Emilia sono pochissimi gli ebrei rimasti spesso sono ebrei che magari sono soltanto per alcuni alcuni mesi a Reggio Emilia per lavoro per esempio quindi ruotano attorno alla sinagoga di Modena per le per le cerimonie quello che è interessante invece è che ci sono possiamo ancora invece vedere i cimiteri ebraici quello di Reggio è abbastanza famoso ma ce n'è anche uno a Scandiano e uno anche a Correggio addirittura in prossimità di quelli cattolici anche molto piccoli a novellare a Guastalla e quindi insomma io parlo un po' del retaggio che ci ha lasciato questa 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 comunità perché per quanto riguarda l'ebraismo sono intrecci complessi tra la religione ebraica e l'identità ebraica e il contributo che queste comunità ebraiche hanno dato all'Europa è sorprendente se pensiamo ai numeri di queste comunità basti pensare che a Reggio Emilia per esempio Ulderico Levi è un grande intellettuale politico promotore dell'edificazione del teatro Ariosto di Reggio Emilia era un ebreo pensiamo a Lazzaro Pado un altro grande intellettuale storico che anche lui ha scritto tanti libri e ha lasciato importanti studi addirittura secondo uno studioso Franco Bonilauri esistono ancora espressioni accenti dialettali proprio nell'area in cui una volta sorgeva il ghetto di Reggio Emilia il ghetto di Reggio Emilia sorgeva nell'area come ho detto di Via Roma come c'era la Galleria Parmigiani per intenderci che secondo lui sono addirittura riconducibili alla presenza ebraica e oltretutto ecco questo magari può essere una nota di colore però effettivamente ci sono tante per noi per noi emiliani che abbiamo fatto della come dire della nostra gastronomia una parte importante della nostra cultura e ci sono un etaggio importante ebraico tra cui insomma poi quando si parla della storia del cibo è sempre difficile dare le cose con chiarezza però si dice che effettivamente il primo il primo erbazzone che fu cucinato da questo fornaio fornaio sacerdoti nel suo forno di Via dell'Aquila quindi in pieno a ghetto all'inizio del novecento vero non è vero insomma sono diverse le fonti che portano a pensare questo certamente non era condito con il grasso di maiale perché il grasso di maiale non può essere consumato dagli ebrei probabilmente era condito diciamo così con il grasso d'oca insomma il condimento principale della cucina ebraica dopodiché nel quarto capitolo incontro i musulmani dei centri islamici reggiani qui la questione si fa complessa perché per diverse ragioni che sappiamo tutti che non sto qui a spiegare e prima di tutto per il numero perché sono realtà veramente grandi io ho incontrato le comunità di tre Moschere Gemiglia ma è bene ricordare che sono tantissimi i centri islamici nella provincia reggiana penso che siano erano all'epoca perché poi sono anche cambiati una ventina se non di più li ho incontrati quindi siamo anche qui bisogna ripercorrere un po' la storia dell'islam ma si fa fatica in poche magari se poi qualcuno vuole fare qualche domanda dopo possiamo approfondirlo dopo c'è un centro islamico molto importante in Via Gioia al Salam mi sono incontrato con questi fedeli diverse volte li ho visti pregare sono andato al sermone del venerdì ed è una comunità che non è più nuova questa questa è una comunità che ha più di 30 anni cioè ormai comincia ad avere una propria storia quindi Abdel Karim che è il tesoriere del circolo culturale islamico di questa moschea di Via Gioia mi ha raccontato tutta la loro storia che è molto interessante come hanno dovuto cercare prima dei luoghi molto piccoli poi dopo attraverso una serie di autofinanziamento comprare degli edifici più grandi fino a insomma avere il progetto adesso di una vera e propria moschea ma con tante difficoltà con tanti sacrifici quello che insomma il testo fondamentale del naturalmente dell'islam e il corano un libro sacro che espone rivelazioni del profeta in 114 sezioni o sure che sono state poi state raccolte successivamente dai compagni del profeta seguendo le indicazioni che lui ha lasciato e io ho cercato di approfondire nel libro l'aspetto fondamentale come posso dire c'è un punto fondamentale quando si entra nell'islam e che secondo me non viene mai è trattato a sufficienza perché ci si ferma sempre un po' così alle apparenze quando si parla dell'islam è il rapporto tra i fedeli musulmani e la parola di Dio la parola è assolutamente fondamentale la recitazione è assolutamente fondamentale nell'islam infatti la maggior parte dei musulmani conosce memoria diverse sure coraniche ed è importante proprio capire quanto la loro recitazione non sia semplicemente un esercizio passivo attenzione c'è un qualcosa così che viene ma è un coinvolgimento mentale concentrato che porta il fedele verso l'incontro con il divino e ascoltare il corano per loro in arabo è effettivamente una sorta di comunicazione con Dio e questo deve farci ricordare che avvicinarsi al corano va fatto con molta cautela è un percorso che passa da una approfondita preparazione l'avvicinarsi al corano l'ascolto della parola di Dio deve essere rilassante rinfrescante quasi ipnotica per arrivare al cuore del musulmano il corano effettivamente contiene un messaggio particolarmente profondo e spirituale anche se sa anche essere pragmatico e concreto ma a volte noi tendiamo un po' a dimenticarci questa grande spiritualità dei fedeli musulmani un paragrafo su questo capitolo e sulla complessità dell'islam l'islam è molto complesso non è legato semplicemente al corano come noi crediamo noi non sappiamo nulla del mondo musulmano non sappiamo nulla del mondo musulmano è un mondo estremamente complesso estremamente diviso noi abbiamo questa tendenza di pensare l'islam come un blocco unico e non ci sono soltanto gli usciti sunniti è molto più complesso dicevo che non è legato semplicemente al corano l'islam e c'è una centralità senza dubbio questo libro però esistono altri fondamentali testi da tenere in considerazione la sirà cioè la biografia del profeta e le raccorte degli hadith io chiedo scusa della pronuncia probabilmente avrò se qualcuno ci ascolta che parla arabo ha legittimato a riprendermi e questi hadith sono i detti e le azioni del profeta gli hadith sono tra le altre cose una parte importante della legge islamica non è tanto il corano ma sono questi hadith che venivano per secoli registrati dei saggi islamici in cui in cui questi saggi che venivano riportati e insegnati oralmente dicevo il corano rimane il testo principale ho parlato prima chiedo scusa ho parlato prima del centro di via gioia non è il solo c'è un altro centro importante c'è la moschea in via in via monari al nur dove anche qui c'è una oltretutto quando ero andato in questa moschea stavano cercando un imam e anche questo è interessante da raccontare l'imam viene preso da una comunità islamica attraverso un contratto vero e proprio nel senso che quando si cerca quando si ha bisogno di un imam si cerca una persona che abbia i titoli per poterlo fare quindi che abbia studiato in qualche università islamica quindi che abbia i titoli per poterlo fare che sia in grado di capire di recitare il corano quindi vengono esaminati i suoi certificati i suoi diplomi i documenti che devono essere rilasciati attenzione dei istituti riconosciuti e solo quando c'è il parere positivo della maggioranza viene stipulato un contratto di lavoro già la maggioranza della dirigenza della dirigenza chiamiamolo del board della maggioranza della della comunità islamica anche qui no? la grande confusione che noi facciamo in occidente tra potere politico e potere religioso con l'islam in realtà è una semplificazione di qualcosa di estremamente più complesso perché non è così una breve parola sui radicalismi i radicalismi il radicalismo islamico lo dico perché sarebbe come dire sciocco non parlarne i radicalismi islamici e il radicalismo islamico e la sua controparte ideologica anti-islamica perché c'è una controparte ideologica anti-islamica che hanno in comune qualcosa c'è un approccio letterale non mediato del corano questo deve essere importante perché per essere in grado di interpretare quindi di capire il messaggio coranico è necessaria una vasta conoscenza della tradizione islamica cioè non è che si apre così il corano e lo si interpreta da soli non funziona così non funziona così c'è un altro centro importante in via Piccar a Luma anche qui ho parlato con l'imam che viene dall'Egitto Abu Abdel Rahman anche questo lui è studiato al Cairo mi ha parlato della sua moschea che oltretutto non si può chiamare moschea tra le altre cose in italiano proprio per legge si chiama centro islamico aperto se non ricordo male è quella più recente aperto nel 2012 sì nel 2012 perché quelli perché in via Gioia erano diventati troppo numerosi non ci stavano più sostanzialmente e addirittura lui il venerdì sera trasmette il sermone in via su Facebook quindi addirittura online quindi questi sono un po' per dopo ho incontrato anche un reggiano che ha abbracciato l'islam che mi ha aiutato anche molto nella stesura del capitolo sull'islam è un reggiano convertito anche se lui non piace essere definito come reggiano come convertito l'ho incontrato lui vive a Campegine si occupa di tradurre molti libri dall'arabo all'italiano e lui per esempio ha così cerca di cogliere la tradizione sufi cosiddetta sufi cioè la parte più spirituale legata all'islam dove il fedele assieme sempre ad un maestro mai da solo dopo attraverso una lunga e faticosa ricerca cerca di mettersi in relazione diretta con Dio è stata una conversazione interessante quella che ho avuto con lui perché insomma ci siamo confrontati su diversi temi e poi nel libro sono spiegate anche insomma alcune sue idee è benedire che come dicevo prima la provincia della Gemiglia ospita tanti altri centri islamici ce n'è uno anche sull'Appennino Reggiano ce n'è una felina col quale anche lì mi sono confrontato con la sua comunità è benedire che tutte queste comunità sono assolutamente aperte e assolutamente disponibili anzi io invito a visitarli a visitarli anche durante le loro funzioni durante le preghiere nei centri principali che sono cinque volte al giorno come noi sappiamo la comunità di Via Gioia ma non solo ma anche tutti i centri islamici aprono le porte spesso anche ai non musulmani durante il mese del Ramadan alla fine del digiuno io mi sono approcciato con loro la prima volta proprio a tavola alla fine di un digiuno di due anni fa di tre anni fa anzi ormai dopodiché mi avvicino nel quinto sesto e settimo capitolo alle religioni orientali e qui devo essere un po' breve perché per questioni di tempo perché ci sarebbe da parlare a lungo le religioni orientali sono religioni molto complesse perché hanno un sistema di pensiero che è totalmente diverso dal nostro noi spesso le chiamiamo filosofie orientali ma tecnicamente è un errore perché la filosofia è occidentale quindi non possono essere filosofie sono qualcos'altro sono diversi gli storici delle religioni che dicono questo addirittura secondo Heidegger la filosofia potrebbe essere soltanto greca o tedesca perché è legata alla lingua noi le chiamiamo filosofie orientali ma sono molto difficili e molto lontano da noi dalla nostra cultura sono molto difficili da spiegare molto difficili da capire la prima è il buddismo di cui mi sono occupato insomma il buddismo apriamo una parentesi molto grande che però chiudiamo la svelta io mi sono occupato soprattutto della casa del Tibet che ha fondato Stefano Dallari in montagna da noi a Canossa noi sappiamo che oltretutto dove in questo centro però la casa del Tibet che è una struttura unica in Italia e che ha legami diretti addirittura con il Dalai Lama e insomma è stato questo grande visionario che Stefano Dallari che ha ricostruito una sorta un piccolo tempio buddista sulla penino reggiano questo centro ospita anche un museo interessantissimo di oggetti tibetani e un archivio fotografico altrettanto importante dell'antropologo Fosco Marahini che fu anche presidente onorario della casa del Tibet il buddismo il buddismo aveva origine nel quarto secolo prima di Cristo nel nord dell'India storia la sappiamo più o meno tutti il buddismo si basa su quattro aspetti che sono definite le quattro nobili verità che l'esistenza è dolore tutta dalla nascita alla morte poi spiega i tipi di dolore l'invecchiamento la nascita appunto la malattia la seconda nobile verità è che il dolore ha un'origine la terza è che è possibile fare cessare l'origine del dolore e la quarta nobile verità è il famoso ottuplice sentiero cioè il metodo per raggiungere la cessazione del dolore sappiamo che c'è una ciclicità dell'esistenza per il buddismo non a caso uno dei suoi simboli principali è la ruota quindi l'esistenza è legata da continue rinascite per il buddista esiste la possibilità dicevo prima di ribellarsi da questo dolore da questa condizione di continue rinascite attraverso raggiungendo il dirvana la casa del Tibet ripeto è un centro molto interessante che su me vale la pena di visitare nel 1999 fu addirittura onorato dalla visita del Dalai Lama in persona ci sono tante foto che ricordano l'evento allora ci sono poche religioni che offrono la stessa varietà di declinazione del buddismo cioè se uno va in una moschea in Spagna e in Indonesia si ritrova si parla in arabo e si ritrova nella struttura nella cerimonia nel modo in cui si comportano i fedeli nel periodo coloniale invece gli europei ci hanno messo decenni per capire che la religione che avevano incontrato in Giappone era la stessa che avevano incontrato in Sri Lanka ora entrare nelle tradizioni buddiste si entra in una grandissima confusione nella quale anche io mi perdo dopo pochi passi perché è una storia millenaria figuriamoci oltretutto Buddha dopo la morte non nominò nessun successore si limitò a raccomandare i suoi discepoli di seguire i suoi insegnamenti naturalmente questo come sempre quando muore il fondatore di una religione di un pensiero importante poi nascono tutta una serie di dispute noi però possiamo distinguere due correnti buddiste la prima è quella teravada o del piccolo veicolo e la seconda è quella mayana o del grande veicolo dopodiché c'è un'altra scuola che si chiama vairayana o veicolo del diamante o buddismo tibetano che nasce dentro al buddismo del grande veicolo che è quello che viene professato da nella casa del tibet oltretutto ci sono anche due una copia di tibetani che si prende cura di tutte le cerimonie che si prende cura di mantenere viva la tradizione tibetana in questo angolo d'appennino quindi c'è un gompa che sostanzialmente è questo piccolo tempio in cui quando si entra dentro io invito oltre a raccontarvi questo anche di visitare i luoghi che menziono perché vale 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 veramente vale veramente la pena noi il buddismo lo conosciamo soprattutto per quanto riguarda la meditazione fu nel primo sermone dopo l'illuminazione che il buddha illustrò appunto lo tupice pensiero che conteneva la liberazione che conduceva la liberazione dal ciclo infinito di rinascita e quindi dalla sofferenza e questo elenco di otto principi quindi c'è la retta visione la retta intenzione la retta parola la retta azione la retta sussistenza il retto sforzo la retta presenza mentale e la retta concentrazione sarebbe bello anche così approfondire la visione la grande illusione del mondo nel quale viviamo che predica insomma che fa parte il buddismo ci insegna questo cioè si dice che le cose sono diverse da come le percepiamo che ciò che vediamo in realtà è una grande illusione prodotta dalla nostra mente straordinaria il pensiero buddista è straordinario è fascinante perché per il buddismo la mente umana è assolutamente intrappolata in una perpetua sensazione di insoddisfazione e proprio questa sensazione di insoddisfazione per il buddismo spinge gli uomini ad attaccarsi a cose che non possono possedere o controllare perché la vita cambia continuamente quindi non la puoi controllare questa tendenza di evitare sempre comunque cose negative anche quando le cose vanno bene questo mantiene lo spirito in uno stato di continua agitazione e la meditazione è un modo per spezzare questo ciclo vizioso questo circolo vizioso c'è anche un centro zen a Reggio Emilia quartiere orologio che ha fondato e porta avanti Antonio Palmieri Palmerini chiedo scusa che ho incontrato insomma lui viene poi dalla tradizione zen e si ritrova nel nel monastero di Fudenji sulle coline di Fidenza dove c'è questa comunità di monaci zen spesso volentieri ci sono anche tanti monaci giapponesi dove monaci giapponesi anche lì sono stati insomma è una realtà incredibile nelle coline di Fidenza dove effettivamente si entra in un'altra dimensione il buddismo zen non va confuso col buddismo tibetano di Votinio sono due cose diverse posso accennare qualche caratteristica del buddismo zen che proviene dalla corrente storica del grande veicolo quindi c'è così un'origine comune un quello di Votinio oggi è molto diffuso in Giappone le origini si servono al medioevo nella pratica dello zen il raggiungimento il chiedo scusa nella pratica dello zen il ragionamento si spegne lascia spazio l'esperienza profonda l'intelletto si spegne l'essere diventa divenire e il divenire l'essere quindi il corpo si fonde con la mente c'è un'altra realtà zen sempre a Reggio Emilia in via Soglia quindi sono due diciamo così le che poi sono semplicemente luoghi in cui si ritrovano per fare meditazione ecco per intenderci insomma il buddismo è soprattutto interpretato in questa in questa in questo senso e quest'altro il nome di quest'altra di quest'altra centro zen è Orlando Furioso e ho incontrato anche lo ho incontrato anche alcuni rappresentanti di questa associazione potremmo parlare a lungo dei canoni buddisti di tutte le lingue di come il buddismo si è adattato a tutte le varie delle religioni locali e le ha portate al proprio interno ed è infatti per questo che il buddismo è molto difficile è diverso dallo Sri Lanka al Giappone perché ha incontrato durante il proprio percorso religioni diverse che ha dovuto in qualche modo integrare e lo ha fatto in maniera molto diversa sesto capitolo sempre in oriente rimaniamo anzi in centro Asia il sicchismo il sicchismo i sic sono quelli che hanno questo turbante in testa che ci ricordano un po' tutti i romanzi di Salgari sicchismo complicatissimo il sicchismo è una regione complicatissima non sono indiani non sono hindù non sono musulmani non sono una via di mezzo è un qualcosa di molto diverso che si basano sulle sugli insegnamenti di Guru Nanak il primo guru sono dieci tutti i grandi maestri sic un personaggio storico tra le altre cose che è realmente esistito tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo in India più precisamente nella regione del Punjab perché è importante parlare dei sicchi a Reggio Emilia perché a Reggio Emilia il tempo di Novellare è uno dei tempi più grandi d'Europa d'Europa la religione sicca è una religione monoteista questo deve essere importante viene adorato un dio che è immortale senza tempo ed è un'identità divina che è entrata nel corso storico degli eventi nel corso degli eventi storici chiedo scusa dopo essersi rivelato Guru Nanak Guru Nanak è una figura fondamentale nella storia del sicchismo anche qui io invito ad andare a visitare il Tempio di Novellara è una comunità molto grande molto importante c'è una cucina che fa parte del Tempio perché nel sicchismo la cucina fa parte del Tempio quindi vengono i sicchi mangiano vegetariano quasi vegano perché non mangiano anche le uova e in cui effettivamente la funzione della cucina è molto importante quando si ritrovano tutte le domeniche c'è sempre un grande affare in questa cucina al primo piano perché fa parte della comunità nel senso di comunità nel senso ogni Tempio ha questa cucina che se non sbaglio si chiama Landag però potrei sbagliarmi ora il principio fondamentale del sicchismo si chiama l'Ukham che è una sorta di agente creatore che è un regolatore che è in tutti gli ideali dell'esistente è una sorta di impulso spirituale che modella la natura l'ordine naturale e questo concetto è comunque misterioso per i Sikh però è necessario sottomettersi a questo Ukham c'è un testo importante il sechismo si basa su testi sacri per avvicinarsi a Dio quindi anche qui preghiere recitazioni canti quasi anzi non quasi viene cantato durante la cerimonia il canto importantissimo poi hanno anche loro tutta una costruzione importante sul libero arbitrio che sarebbe anche qui interessante approfondire ma come si fa il tempo il tempo è quello che è comunque insomma sostanzialmente per loro è semplicemente grazie all'ascolto e alla comunione delle parole divine che è possibile compiere questa sorta di viaggio interiore un vero e proprio pellegrinaggio che porta a una sorta di autoscoperta una metafor una metamorfosi dei propri punti di vista e questo per il sechismo la fede la fede autentica e e allora a questo punto che Ukham questa no questa 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 questo 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 agente creatore regolatore e diventa profondamente legato al libero arbitrio e perché infatti è la responsabilità individuale dell'uomo decidere se accettare o meno questo comandamento e sui sech potremmo dire tante cose il tempo di novellare è straordinario io vi invito davvero a sappiamo che a visitarlo sappiamo che i sech hanno i famosi cinque simboli le cinque k quindi sono i capelli che non si devono tagliare che sono perché sono il simbolo del guru e investono insomma il credente di una profonda spiritualità poi dopo c'è questo pettine che si tiene sotto il turbante colorato che ogni sic porta che è un pettine rituale che simboleggia il tenere i capelli sempre puliti in ordine poi dopo c'è un braccialetto di ferro rotondo senza fini senza inizio come la natura di Dio e che ricorda anche non commettere atti illeciti poi dopo c'è la spada che è la manifestazione della potenza divina che spesso è una sorta di pugnale rituale diciamo così e poi i pantaloncini corti al ginocchio che sono il simbolo dell'igiene del corpo ecco queste cose è bene dirlo che è soltanto per i sech battezzati perché non tutti i sech sono battezzati solo alcuni che decidono di battezzarsi devono poi dopo sottostare a tutte queste regole molto rigide i sech non possono fare proselitismo quindi viene veramente come dire trovata viene come posso dire indagata la fede del sech che si vuole che si vuole diventare che si vuole battezzare ultima religione a quale tratto è l'induismo tra Novellare e Reggio Emilia a Reggio Emilia ci sono due tempi induisti principali uno è anche qui l'induismo si apre un capitolo difficilissimo per secoli l'uomo occidentale non sapeva se mettere l'induismo tra i politeisti tra il politeismo e il monoteismo oppure se considerare tutte queste religioni dell'India come diverse religioni oppure come un'unica religione effettivamente l'induismo per secoli forse possiamo dire per millenni anzi è esistito senza sviluppare una struttura criticologica nei propri confronti è stato soltanto quando altre religioni come il buddismo hanno iniziato a prosperare in quell'area dell'India che si è sentito il bisogno di definire meglio la nottura dell'induismo un mondo estremamente complesso variegato basti pensare al concetto di Brahman che è anche questo uno spirito unico che si cela dietro ogni cosa e che attraversa tutto il mondo incluse le divinità hinduistiche e che accompagna tutti gli esseri viventi verso un unico destino e per molti hinduisti questo è il vero oggetto di devozione che viene espresso nel celebre suono Om dopodiché il Brahman quindi questo oggetto unico si manifesta attraverso differenti divinità e in modi in forme variegate due parole sul karma noi facciamo un sacco di confusione sul karma noi sappiamo che per l'induismo ma così anche per il buddismo le condizioni della nuova vita dopo la rinascita sono legate alle azioni compiute nelle esistenze precedenti e attraverso un principio di causa-effetto che si chiama karma determinato dal karma anzi un principio di causa-effetto determinato dal karma il karma è qualcosa di fondamentale nel buddismo che viene però abusato nel nostro linguaggio occidentale il karma è prima di tutto azione atto e lavoro ed è attraverso il karma che si possono cambiare le condizioni della propria vita già della propria vita e di quella futura fino ad arrivare alla liberazione finale non dal ciclo di nascite eterna perché dico abusato perché spesso noi vediamo il karma come una sorta di di sistema punti dove una serie di buone azioni una volta sommate si trasformano in un premio finale ma in realtà è molto diverso perché non sono le azioni in sé il vero oggetto dell'attenzione ma le loro conseguenze un'azione infatti all'interno del principio del karma va considerata come gli effetti che produce cioè una condizione negativa una condotta negativa e avrà un risvolto negativo dando via tutta una sorta di effetto di domino i cui esiti si perdurranno nel futuro le quali non sappiamo le conseguenze che possono avere ed effettivamente se la vediamo così il karma si avvicina un po' al concetto di libero arbitrio e non è semplicemente il fatalismo a Reggio Emilia ci sono due tempi dicevo uno è quello di Novellara che raduna e soprattutto persone della regione del Punjab la divinità principale è Madurga anche se c'è anche una statua anche se in realtà sarebbe più corretto chiamarla un'icona che oltretutto viene molto bella si può visitare viene direttamente dall'India è stato un marmolo bianco del Rajasthan insomma una bellissima una bellissima scultura e dopodiché c'è un altro c'è un altro centro importante a Reggio Emilia che unisce soprattutto i migrati dallo Sri Lanka è un tempo induista molto nuovo molto bello con un bellissimo palchè e anche in questo caso viene dedicato a una divinità femminile anche in questo caso le principali divinità indu sono tantissime sono così tante perché anche l'induismo è dovuto fare i conti con le varie religioni locali e quindi è assimilato in questo pantheon enorme in questo pantheon enorme le le divinità precedenti è una traduzione l'induismo millenaria su testi straordinari che hanno affascinato il mondo il mondo occidentale la letteratura indiana è una letteratura incredibile dalle Upanisha da Ai Purana Ai Veda che sono scritti antichissimi addirittura risalenti a 1500 anni prima di Cristo che secondo la tradizione per esempio i Veda non sono stati inventati dagli uomini ma dettati da divinità dopodiché alla fine del libro chiaramente ho una conversazione con chiaramente non chiaramente ma perché comunque non è che noi siamo una terra così che non ha la propria tradizione siamo una provincia una regione del mondo cattolica ho approfondito una conversazione con il vescovo Camisasca in cui abbiamo parlato appunto di dialogo interreligioso e di cattolicesimo però questa è stata più un'intervista che non che non che è un'esposizione che è un'esposizione mia un'ora e cinque spero di non aver fatto addormentare nessuno e se però quindi a questo punto ci sono delle domande insomma ben vengano perché sono dovuto andare in fretta ma purtroppo non ho alternative allora io ho una domanda via whatsapp adesso devo riaprire arrivo subito allora una curiosità sul battesimo dei SIC come si celebra e che paragone cioè se c'è se c'è la possibilità di paragonarlo con quello che tutti noi più o meno conosciamo se è quello cattolico o quello evangelico allora il battesimo è un rito di iniziazione che fa entrare in quella che si chiama la calcia cioè una sorta di della comunità il gruppo di SIC iniziati questo era stato uno dei dieci guru a introdurre diciamo così questa questa consuetudine è un rito di passaggio è una scelta assolutamente consapevole a differenza del battesimo cattolico e che effettivamente poi dopo comporta dei precetti rigidi come l'astinenza dell'alcol dalle droghe da tutti gli eccitanti i SIC mangiano in maniera molto salutista diciamo così quindi neanche il tabacco è permesso quindi questo battesimo ufficializza l'ingresso nella comunità SIC e sotto questo punto di vista sì ci sono delle relazioni con il cattolicesimo c'è una cerimonia in cui l'acqua viene versata durante le cinque preghiere del mattino per poi essere spruzzata ritualmente cinque volte sulla testa cinque volte negli occhi e sorseggiata per altre cinque volte e poi dopo il battezzando viene appunto ricordato cosa cosa è lecito e cosa non è lecito cosa è peccato e come si fa per chiedere perdone in caso di peccato e sostanzialmente io non ho mai assistito devo ammettere a un battesimo SIC mi ha raccontato questo ragazzo che era la guida perché adesso di cui era perché è andato via adesso è andato in Canada a meno che non sia tornato che era la guida ufficiale di questo tempio perché effettivamente questo tempio aveva appunto questo ragazzo che si occupava di come dire di di guidare di guidarmi e non solo me in questo insomma in questo viaggio bellissimo del secchismo devo dire che è più interessante forse anche più più concreto di quello cristiano quello cattolico in particolare quello che posso parlare io è quello cattolico forse perché è una scelta presa dall'individuo quindi non imposta quindi proprio una scelta che sicuramente è legata a una fede profonda mentre secondo me battezzare dei bambini per me non è che abbia molto senso cioè avevano più ragione i primi cristiani a battezzare degli adulti parte il fatto che i bambini potevano morire dopo pochi giorni però insomma il senso forse è maggiore forse anche una maggiore spiritualità ma sulla maggiore spiritualità apriamo una parentesi interessante nel senso che nel senso che bisogna chiedersi cosa rimane della spiritualità nella regione cattolica forse o nella regione cristiana o forse cosa rimane della spiritualità nel mondo occidentale secondo me poco e non è un caso che tante persone del mondo occidentale soffrano di questa mancanza di spiritualità che noi abbiamo nella nostra vita quotidiana dove la spiritualità se noi togliamo la spiritualità dalle nostre vite dal nostro mondo non dalle nostre vite ma il nostro mondo la nostra società continua ad avere un senso se tu togli la spiritualità dai Sikh il loro mondo non ha più un senso però questo bisogno rimane e non è un caso se tanti occidentali poi si siano avvicinati negli ultimi 30-40 anni a queste filosofie orientali se noi pensiamo alla meditazione per esempio spesso e volentieri sono degli avvicinamenti senza capirci un tubo perché noi abbiamo questa bastarda idea ancora oggi di andare in un luogo e di prendere quello che ci può interessare quello che ci può servire e poi portarcelo a casa e abbiamo fatto così in qualche modo anche con l'Oriente cioè tutte queste chi si avvicina un po' a quel mondo lo conosce lo ha visto e ha visto anche tante tante insomma come posso dire autofilosofie o religioni costruite così da soli improvvisate la meditazione la meditazione è qualcosa che può essere interessante ma se la meditazione ti spingono a fare al lavoro per esempio che adesso va molto il mindfulness al lavoro quando c'è la pausa ti fanno fare meditazione ma se fare la meditazione al lavoro è un modo per poi farti tirare il collo fino alle nove di sera senza sentirti stanco senza sentirti frustrato allora vuol dire non aver capito nulla della meditazione vuol dire che non serve a nulla non aver capito niente e abusare come un mezzo quella che invece è una grande tradizione quella che è una grande tradizione perché non si può capire non si può fare la meditazione senza capire il concetto della della passività nei confronti del mondo che hanno molti buddhisti del quello che si chiama distacco dalle cose materiali cioè sì certo poi dopo se funziona va bene sì si può fare però per dirne una ma possiamo trovare diversi spunti sotto questo punto di vista e che ci sia una mancanza di spiritualità in occidente è un dato di fatto e insomma siamo i più grandi consumatori di di psicofarmaci del mondo quindi insomma c'è questa parte di noi che chiede no chiede spiritualità e non trova risposte fa domande e non trova risposte e quindi sì il problema c'è il problema esiste è molto grave beh d'altronde la frattura con con l'ottocento già col settecento sostanzialmente in occidente è la perdita di spiritualità Nietzsche apertamente lo dice cioè Dio è morto Freud si occupa dello studio della mente umana e capisce che nelle psicopatologie quotidiane c'è anche la crisi della sacralità cioè noi abbiamo preso quello che è brutto da dirsi però è la pura verità che è più commerciale mi viene in mente lo yoga come tanto quanto la meditazione insomma no ma poi attenzione se le cose funzionano per l'amor di Dio benvengano beh sì sì però insomma se si fa no certo nel senso che però se si fanno le cose in maniera seria e non sciocchina sono tradizioni molto importanti e che però e che non appartengono minimamente alla nostra tradizione anche questa è una cosa importante da dire cioè non appartengono minimamente alla tradizione cioè quando tu ti avvicini a filosofie orientali ancora una volta le chiamiamo filosofie ma non è corretto chiamarle filosofie è un mondo che è assolutamente straneo al nostro quando tu parli con un asiatico te ne accorgi subito che è un modo di pensare totalmente diverso dal nostro non migliore o peggiore diverso semplicemente quindi questo è il punto questo è il punto quindi diciamo la spiritualità e la spiritualità il senso del sacro è qualcosa che è di molto profondo qualcosa che dovrebbe anche fare paura in qualche modo non semplicemente qualcosa col quale avvicinarsi così però così noi occidentali ormai abbiamo completamente perso questi 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 concetti non sarebbe tanto da dire anche qui allora mi chiedono mi fanno un'introduzione giusta ossia che i testimoni di Geova i battesimi sono compiuti da adulti quindi più consapevoli mi chiedono cosa fare cosa dovrebbe fare il mondo occidentale per ritrovare la spiritualità direi che ormai cosa fare è un po' è una bellissima domanda però siamo lontani dalla ricerca della spiritualità ormai analizzando poi la storia dell'occidente abbiamo sostituito completamente il capitale a Dio e questo è un processo interno alla chiesa cattolica al protestantesimo e alla chiesa cattolica quindi e alla fine di tutto è tutto ritorna tutto lì alla fine di tutto però io ti pongo lo stesso la domanda cosa fare cosa dovrebbe la spiritualità non è la spiritualità non è come posso dire non è contemplata nel mondo contemporaneo nel senso che noi viviamo in un mondo che vive nell'oggi domani e ieri come può contemplare il momento di spiritualità come può contemplare l'eterno come può contemplare l'eterno un mondo che semplicemente si basa sulla rapidità di internet di instagram di messaggi che non possono andare oltre alle tot righe di tweet o di video non c'è spazio non c'è lo spazio la nostra società occidentale non è non è basata su queste cose è stata superata la società della tecnica ha superato queste queste necessità che però ci sono ancora attenzione perché comunque poi dopo il segnale di aiuto si chiede no io ho il mio padrino che giustamente diceva quello che oggi fa uno psicologo era quello che 60 anni fa faceva un buon confessore ragionamento perfetto ragionamento perfetto e poi se va bene uno va da psicologo se va se va peggio va in farmacia perché come diceva Kafka è più facile dare delle ricette che parlare con i propri pazienti mi pare fosse Kafka posso sbagliarmi però però detto questo il problema rimane quindi quindi non lo so io sono affascinato da queste religioni perché effettivamente insomma ho attraversando questo libro mi sono avvicinato a realtà dove c'è ancora un'idea del sacro dove c'è ancora un'idea del timore di Dio dove c'è ancora un'idea del non provare a ragionare con delle cose che vanno al di là del razionale la religione musulmana pregna anche di fatalismo inshallah no? è qualcosa e che comunque qualsiasi cosa accada però è un Dio giusto a prescindere da tutto Umberto Galimberti lui racconta che questo è insido nella regione cristiana che ha creato un Dio tutto buono tutto e che dopodiché è peggiorato negli ultimi anni nella quale si perde completamente il senso del sacro perché il senso del sacro tu ce l'hai soltanto se c'è anche un senso di timore un senso della non comprensione che oltretutto questo in qualche modo era nato anche in ambiente cristiano perché mi pare fossero a Cartesio se gli chiese no chiedo scusa San Tommaso d'Aquino diceva che bisogna spegnere l'intelletto per avvicinarsi al sacro e quindi il problema sicuramente resta come si fa come si fa non so come si possa fare però ripeto avvicinandomi a queste comunità ho visto delle persone che credono e credono fortemente in qualcosa in qualcosa di in qualche modo trascendente se vogliamo nel quale fanno spegnere l'intelletto allora ti leggo un commento di Angela Viola che oltretutto è stata una nostra relatrice che è la forma più autentica di entrare nel respiro il luogo più vero della nostra spiritualità la vera casa basterebbe questo è tempo è spazio che ci concediamo senza pressioni e condizionamenti sì è vero è vero però anche lì bisogna stare attenti perché religione è comunità quindi sì è vero questo è un principio anche questo che può essere in qualche modo c'è del vero anche per quanto riguarda la tradizione buddista se vogliamo però c'è sempre anche la comunità anche nella dimensione buddista il mio timore è che in una in una società talmente individualista come quella nella quale viviamo nella quale non ci conosciamo neanche più per vicini di casa è che diventerà sempre peggiore perché attraverso la tecnologia abbiamo vite sempre più più vuote in qualche modo e qui siamo sempre più soli non vorrei che dopo insomma questo qui diventasse come dire quasi un no un modo per per continuare ad andare avanti una situazione che comunque non è sana l'idea di comunità è un'idea che nelle religioni non è non è marginale perché ci sono delle cose con le quali grazie alla comunità puoi 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 sopportare grazie alla cui sono delle cose che capitano nella vita che soltanto quando hai il conforto della comunità che ti può effettivamente dare una mano e sostenere e in anche in ambito cristiano queste ci sono queste c'erano io una cosa che ho trovato particolarmente interessante proprio di questa no di questo grande questo grande misticismo che avviene durante le liturgie religiose quando uno va e ascolta recitare il corano se l'imam è particolare lettore particolarmente bravo effettivamente si prescinde quasi dalle parole dall'arabo quando uno ascolta una cerimonia buddista prescinde dalle parole che ascolta se le capisce o meno è un libro molto bello di Oxley Aldous Oxley The Doors of Perception le porte della percezione dalla quale i Doors hanno preso il loro nome che è un libro in cui parla molto di queste cose di questa di canti fatti in coro in cui lui addirittura arriva a dire che proprio perché si spira molto lentamente si tiene più ossigeno nel suo cervello e quindi questo ci porta in una condizione nella quale di poca lucidità se vogliamo però di come dire ed effettivamente quando tu assisti a questi riti la percepisci queste cose ma in Lussemburgo c'è una chiesina sperduta in mezzo alle montagne dove fanno ancora le colline dove fanno ancora il canto gregoriano la domenica beh quando uno va in una chiesa e ascolta il canto gregoriano effettivamente c'è ancora una sacralità c'è ancora un mistero del canto e di un coro che in qualche modo come dire cerca di non è che cerchi neanche ma esprime qualcosa di trascendente ma se noi andiamo oggi nelle nostre chiese c'è la chitarra che suona in quattro quarti la chitarra canto per Cristo vabbè abbiamo finito queste sono cose scampagnate abbiamo finito con la sacralità non c'è più non c'è più alcun mistero non c'è più nessun tipo di come dire di sensazione in qualche modo che riesce a entrare in contatto senza passare dalla ragione dall'intelletto questo è molto importante ma noi questo non lo facciamo più nelle nostre chiese tu citavi tu dice prima giustamente poi dopo noi ci abbiamo messo un po' di tempo per capire quello che lui diceva ma è così eppure c'era una parte della tradizione cristiana e cattolica che aveva ancora questa potenza questa potenza del messaggio questa potenza del messaggio volevo chiederti una cosa mentre lascio il tempo per le domande tu hai indagato su Reggio Emilia ma sicuramente hai incontrato anche il nostro appennino quali comunità sono presenti oltre va bene quella cattolica quella musulmana quali altre piccole comunità ci sono comunità pentecostali anche su da noi in montagna ci sono c'è qualche famiglia sic su in montagna però vanno quasi tutti a vanno poi tutto il tempio di Novellara la domenica quando possono poi sai anche lì diventa un po' un censimento io insomma mi sono occupato di comunità in qualche modo organizzate quindi intorno a un luogo di culto però sì in montagna diciamo che sono un po' queste le realtà principali ecco allora un altro commento è tra le religioni analizzate è l'unica religione in crisi anche a trovare nuova vocazione quella cristiana cattolica forse quella dove al momento c'è c'è più ma nel mondo nel quale noi viviamo come come si fa a scegliere di diventare preti cioè al di là della dell'espirazione oppure della vocazione che poi si può ma non 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 è più a misura di queste cose questo è quello che voglio rimarcare è questo che non siamo più una società nella quale non non è importante non c'è il tempo cioè i musulmani quando quante critiche si fanno i musulmani perché dicono loro devono pregare cinque volte al giorno e si fermano di lavorare quando devono pregare e quindi sono dei privilegiati vabbè ma che discorsi sono questi questo è questo è un senso comune non è che lo dicono i dattori di lavoro dicono è una psiche collettiva che pervade l'Occidente l'Italia e l'Occidente non dappertutto ma quasi dappertutto sono i ramadame quindi e quindi che spazio oltretutto quando un musulmano entra è un modo per separarsi un momento dalla vita quotidiana per indirizzarsi verso Dio anche per il musulmano il rito è importante il raccoglimento un momento cinque volte al giorno per raccogliersi e per concentrarsi nei confronti di Dio ma voi vedete che questo è inammissibile nel nostro nel nostro mondo è inammissibile non soltanto ma anche la parte nostra perché non siamo più disposti a tollerare questo tipo di 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 c'è quasi come dire c'è quasi la caccia no quindi come 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 o quante volte se una persona si mette vi è capitato di parlare con dei Sikh che non potevano mettersi il turbante perché altrimenti era un problema nel loro ambiente di lavoro eccetera eccetera non è sempre così in Inghilterra hanno fatto una grossa battaglia a un certo punto hanno fatto un grande shopper e il turbante li hanno fatto mettere dappertutto però questo per dirci il problema nostro è che non è tanto crisi o non crisi il problema nostro è che noi viviamo in un mondo che è il mondo della tecnica che è il mondo che ho un po' accennato l'altra volta quando parlavo di Gunther Anders che non dà spazio a queste cose non è importante la soggettività non è importante la parte irrazionale la parte la parte irragionevole che ci abita non è importante la religione non diventa più qualcosa di così non c'è spazio non c'è tempo e viene lentamente eliminata quindi è un processo non so forse impossibile da contrastare non so un'altra cosa questa è una domanda proprio brucia pelo oggi come oggi nella scuola italiana insegnare religione come viene insegnata religione cristiana cattolica perché è l'unica religione che venga insegnata ha ancora senso insegnare religione come è stabilito sostanzialmente vabbè dopo i patti lateranensi la religione insegnata a scuola rischia semplicemente di diventare una sorta di di etica cristiana cioè nel senso che diventa semplicemente qualcosa in cui ci viene detto quello che è lecito e quello che non è lecito fare e allora se diventa questo non ha alcuna utilità perché lo sappiamo benissimo quello che è lecito non è lecito faro quello che ci permette non ci permette di fare la tecnica quello che è lecito non è lecito faro ormai al giorno d'oggi e allora se il cristianesimo diventa soltanto un serbatoio di di valori chiamiamo così o di principi di coefficienti sociali non ha più senso perché è slegato da quella sacralità come fa a insegnare l'idea del sacro in una come si fa non si parla più di queste cose il cristianesimo non parla più io ho fatto una intervista col vescovo in cui ho cercato di tirare fuori queste cose effettivamente il vescovo non si parla più della questione del male non si parla più della questione della morte non si parla più si evitano queste cose si evitano nel modo più assoluto queste cose perché non c'è tempo perché perché stiamo a pensare dell'irrazionalità della morte o da dove viene il male o queste cose che tenevano impegnati tanti intellettuali in Europa nei secoli scorsi chi ne parla di queste cose non ne parla più nessuno non è non è non è non è importante non non so eppure ce ne sarebbe no da dire soprattutto in questi tempi di pandemia ma invece non no non siamo preparati alla non siamo non siamo più abituati all'eterno al sacro a tutte queste cose che invece altri popoli sono sono preparati e la cosa purtroppo brutta è che non siamo neanche preparati al dialogo quindi a scuola forse si dovrebbe insegnare un po' io dicevo prima non credo molto nel dialogo religioso ma quantomeno alla conoscenza non sappiamo nulla di queste persone che stanno con noi in coda alle poste quando vediamo una donna velata pensiamo subito alla a una condizione di violenza psicologica che deve subire forse in alcuni casi è anche vero non lo metto in dubbio ma c'è anche una questione identitaria che è molto forte e che quindi non lo so si rimane sempre molto la superficie e noi occidentali siamo stati un popolo di grandi curiosi di grandi curiosoni nella nostra storia abbiamo sempre cercato di interpretare l'altro sempre cercato di interpretare l'altro se pensiamo alle dispute teologiche dopo avere per esempio scoperto le Americhe quando Bartolomee della Scasa si chiedevano questi indios cosa facciamo li convertiamo sono figli di Dio domande domande importanti e il mondo occidentale è sempre stato un mondo di curiosi lo è sempre stato sempre non è che i cinesi non avessero la tecnica per arrivare in America per arrivare nella società cinese nella cultura dell'epoca il centro del mondo il centro dell'universo passava al palazzo imperatore fine il resto non era importante invece noi siamo sempre stati grandi curiosoni nel bene come nel male attenzione anche qui sfatiamo il mito che il cristianesimo è stato sempre portato con col Vangelo e con la pace non è così e basta vedere Sud America o le guerre e Sassi vabbè insomma è un discorso complesso e però noi abbiamo perso anche questo adesso non abbiamo neanche più la curiosità di di conoscere l'altro allora se proprio proprio nelle scuole dovessimo insegnare qualcosa forse sì insegnare cioè occuparsi di queste persone non soltanto dal punto di vista se fanno il Ramadan se non fanno il Ramadan ma chi sono quali sono le loro a cosa credono come vivono che visione del mondo hanno invece non se ne occupa nessuno perché è complicato io capisco sia complicato capisco che l'immigrazione sia un problema certo che lo capisco perché l'altro è sempre un problema sono fandoni a quelle che provano chi prova a venderci il fatto che sì tu sei un altro io vengo ti abbraccio o benvenuti ai rifugiati non è così perché non è così perché antropologicamente non è così e lo sappiamo tutti benissimo però questo non può far sì questo però può essere in qualche modo come dire questo sentimento così di paura può essere in qualche modo attenuato attraverso la conoscenza attraverso la conoscenza dell'altro ma chi è che si occupa di queste cose chi è che si occupa di capire ormai gli musulmani sono con noi ormai sono 40 anni che abbiamo i musulmani che conviviamo che facciamo la coda alle poste con loro o con i sigli non è che sia una cosa degli ultimi 3 o 4 anni sono anni ed anni ed anni ma chi è che si occupa di capirli cioè di ma nel quotidiano voglio dire non ci sono dei studiosi o chi si occupa di dialogo interreligioso o dei teologi ma in qualche modo ci sarà è importante capire no o no secondo me sì altrimenti non so anche perché questo sarà il futuro oltretutto io questo lo devo dire e lo dico con grande chiarezza io ho trovato mi sono confrontato con tante realtà di giovani sia indiani perché poi dopo tutti questi centri islamici o anche centri anche per esempio il centro di Novellara hanno queste associazioni giovanili e mi sono incontrato con loro confrontato e ho visto in questi giovani di 17 18 16 anni nati in Italia quindi sostanzialmente stati italiani una vitalità molto più profonda rispetto ai loro ai loro ai loro ai loro controparti reggiane reggianissimi diciamo così e e questo va tenuto in forte considerazione quindi io non 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 lo so ma insomma penso che ci sia un lavoro di studio e di scoperta da fare importante e faticoso molto faticoso ma che non può essere del quale non possiamo esonerarci delle quali le prossime generazioni non potranno esonerarci altrimenti no perché altrimenti forse noi vogliamo questo mondo tutto uguale tutto unico dove siamo tutti occidentali che era questa grande grande ideologia neocon dopo la fine dell'accaduto del muro di Berlina fino all'Unione Sovietica in cui il mondo sarebbe stato tutto uguale tutto pacifico non è così non è stato così e continuiamo ad andare avanti con questa con questa grande illusione e a me francamente un mondo di persone tutte uguali non mi andrebbe proprio bene per niente se devo anche essere sincero se devo proprio dirla tutta sì diciamo che questo è un problema che prende io rimango in ambito scolastico e nelle mie materie spero future di insegnamento sia ad esempio storia e letteratura italiana però rimangono un problema fondamentale perché l'altro giorno ad esempio leggevo alcuni articoli sulla world history cioè questo grande cambiamento di paradigma dell'insegnamento della storia cioè incominciare anche a capire che ad esempio in Inghilterra è molto più seguita che ormai il vecchio modulo di fare storia cioè capire che la storia è di tutto il mondo non solo della parte europea l'Europa poi gli europei come hai detto te curiosi finché vogliamo hanno incominciato ad esplorare nel bene e nel male sempre tutto il resto del mondo ma il resto del mondo era già abitato c'erano già delle culture c'erano già una storia prima degli europei anche questa cosa su un mio manuale dell'università io ho trovato una frase che non è che mi convinca molto cioè che la storia mondiale è eurocentrica eurocentrica anche lì io cioè poi forse sarà che io sono sicuramente di un'altra generazione rispetto all'autore del libro e avremo anche pensieri diversi di fondo però io la storia come unicità dell'Europa io non la vedo cioè io vedo la storia di tutto il pianeta terra anzi no provo a interpretare le parole cioè la storia come un momento di tempo con un senso è qualcosa di occidentale cioè prima del cristianesimo la storia non aveva un senso per i greci c'era un tempo ciclico o un tempo verso l'infinito che avevano due nomi diversi invece con il cristianesimo c'è un tempo scatologico ed effettivamente con il cristianesimo la storia assume un senso se tu fai caso gli storici greci o latini non erano degli storici ma erano persone che prendevano appunti quello che stava accadendo e allora io la interpreto così poi dopo non ho letto il testo magari non è così allora sotto questo punto di vista la storia quindi come spazio temporale con un senso sì è qualcosa di assolutamente cristiano assolutamente europeo ma questo non vuole dire che quello che tu dici sia sbagliato perché è vero noi non sappiamo non sappiamo nulla della storia ma il problema è che quando non si sa nulla neanche della propria storia figuriamoci andare a capire la storia ma è per quello che certe volte mi fa un po' così quando si si avvicina a filosofie orientali che sono qualcosa di di una complessità enorme perché poi dopo noi non parliamo la lingua loro anche questa cosa qui cioè noi non parliamo il pali o il tibetano quindi lavoriamo già su dei testi che sono stati tradotti e quindi già perdono il significato perché Edecker questo lo diceva molto bene tu non puoi pensare qualcosa che il tuo linguaggio non conosce e quindi se tu non conosci quelle parole come fai anche a capire la filosofia che ci sta dietro diventa molto complicato diventa estremamente complicato ed è vero io quando insomma chi ha viaggiato in Asia se ne rende conto subito quando tu parli con una persona che di media cultura capisci che c'è un modo di pensare dietro che è assolutamente diverso che è affascinante ma che è assolutamente diverso quindi quando noi ci avviciniamo a queste filosofie orientali e lo dico da frequentatore della casa del Tibet e intendiamoci bene quindi figuriamoci anzi ho fatto tante cose con loro e penso che sia straordinaria quello che ha fatto Stefano Dallari mi riferisco più a altre altre correnti che in occidente soprattutto tra gli anni 60 e 70 ma il punto è che c'è effettivamente il bisogno di andare a cercare questa idea del sacro di qualcosa di misterioso perché fa parte della nostra natura tutto lì tutto lì tutto lì quello che è strano è che in Italia ci sia un consumo di psicofarmaci enorme enorme in tutta Europa ma che questo non sia un problema politico per nessuno cioè nessuno si occupa di questo problema che è incredibile se tu ci pensi cioè nessuno si occupa di questo problema ci occupiamo per esempio del fatto che le sigarette fanno male che l'alcol fa male ma non ci occupiamo del fatto che ci siano milioni di persone che tutti i giorni o il tasso di sud sono uscite adesso le statistiche sulla felicità non so se le avrete le avrai viste sono uscite sui giornali queste sono cose che fanno ridere ma come si fa a misurare la felicità cioè come se la felicità fosse degli strumenti misurabili razionalmente ma questo vuole dire non aver capito nulla della felicità in senso greco di non aver mai letto Aristotele queste persone che stanno lì tutto l'anno a fare queste classifiche pagate ma cosa vuol dire la Finlandia è anche un posto in cui si ammazza un sacco di gente in cui c'è un consumo di psicofarmaci ancora più alto che in Italia ma in che rapporto stanno queste cose come si fa però invece la politica dovrebbe occuparsene di queste cose ma c'è qualcuno che se ne occupa la politica si occupa di queste cose la politica si occupa dell'insegnare le religioni cioè tutti questi problemi sociali queste tensioni che noi abbiamo no non se ne occupa perché è una cosa difficile perché è complesso e perché forse non paga neanche dal punto di vista elettorale non lo so perché viviamo sempre tra ieri oggi e domani viviamo sempre questa tempistica che ieri oggi e domani questo è il nostro tempo questo è il tempo il nostro tempo è questo è un mondo che va così e quindi quando mi chiedono eh ma le crisi la crisi della religione ma certo che c'è una crisi della religione perché non è cosa 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 puoi metterci cosa che tempo hai non vedi che uno non c'è più nel senso dell'eterno il tempo della contemplazione il tempo della preghia chi è che prega convintamente questo poi diventa poi un problema serio perché dal punto di vista culturale quando noi entriamo in una chiesa la perdita totale poi del senso del sacro non ci fa in realtà appena apprezzare l'ambiente in cui entriamo perché noi possiamo entrare in una pieve romanica o in una chiesa barocca e dire sì sono belle perché ci piace lo stile artistico ma non capiamo il concetto di fondo che c'è dietro la costruzione ad esempio di una chiesa in stile romanico oppure in stile gotico perché anche lì Jacques Le Groff quando veniva in Italia e veniva a Parma al Duomo quando si trovava di fronte gli studenti dell'università diceva bene quello che vanno insegnate i professori bene dimenticatevelo tutto perché non c'entra niente con la sacralità medievale col concetto medievale di sacro cioè quello che voi oggi avete completamente perso ed è insomma una cosa importante invece perché quando noi ci troviamo di fronte ad una chiesa romanica il passaggio dalle tenebre alla luce ci svelano il mistero della sacralità è parte di quel mistero della sacralità originale è parte di quel cammino che doveva essere quello dei cristiani invece noi ce lo fanno notare sì ma non è sembra quasi non essere così importante certo perché quella società medievale è una società che se tu gli toglievi dio non aveva più senso quindi questo è come dicevo prima e come dice anche Gunther Anders il nostro tempo se ci togli i cellulari sì che il nostro tempo perde di senso completamente provi a immaginare senza cellulari noi da un giorno all'altro abbiamo perso il senso il senso non è anche il senso ma la nostra vita ma non se ci togli dio Nietzsche fu un grande profeta andrebbe forse bisognerebbe studiare più Nietzsche che non religione a scuola studiarlo bene e spiega anche tante cose tanti disastri insomma del resto non a caso parla di nichilismo ma spiega molto bene alcuni alcuni così malattie dello spirito se così vogliamo dire al netto che possa esistere meno spirito o l'anima che secondo la teologia cristiana per esempio non esiste ma questo è un lungo discorso basta chiedere il settore per avere la stessa risposta e quindi no quello che tu dici è perfettamente quello che tu riporti di Jack Legoff è assolutamente ineccepibile va bene ah no ecco un'altra cosa Matteo in questi ultimi anni oltre ai grandi flussi migratori ovviamente provenienti dall'Africa e dalle zone dell'Asia che conosciamo arriva anche un'immigrazione maggiore dalla Cina in questo caso in questo caso un'immigrazione un po' più dal fine commerciale insomma di solito non sempre però maggior parte ecco cosa porta la comunità cinese visto che la Cina essendo un paese comunista di solito è l'ateismo di stato per eccellenza le realtà comuniste sì poi dopo abbiamo visto che in tutte le realtà comuniste i comunisti di io non sono mai riusciti a ucciderlo basti andare in Russia al giorno d'oggi e vedere come viene vissuta ancora la fede dalle persone che hanno anche vissuto il comunismo semmai è stato il capitalismo e la tecnica a toglierci quella spiritualità lì cosa ci porta la Cina è difficile è difficile dirlo intanto la Cina attraverso il confucianesimo ci ha già insegnato nei secoli passati l'importanza della meritocrazia l'importanza dei concorsi pubblici il confucianesimo predica questo adesso non è un caso se in Cina la corruzione sia pesantemente perseguita vengano perseguitati le persone corrotte o che si fanno o che corrompono perché c'è un'idea confuciana in cui la meritocrazia effettivamente fa parte della società cinese e il comunismo cinese è un comunismo molto particolare che insomma è su questo il momento di approfondire certo è che la Cina dovrà fare insomma i conti però vedi anche lì anche la Cina è vero quello che si dice però guarda caso che la figura del Dalai Lama comunque è una figura ancora in qualche modo ingombrante eppure perché lo dovrebbe essere eppure è una figura ancora ingombrante è un problema che è un problema anche politico sicuramente geopolitico nessuno lo mette in dubbio però è una figura importante la popolarità di quest'uomo il fatto che possa essere invitato ma il fatto che si possono esporre bandiere tibetane ma non quando vengono i cinesi a visitarci quindi vedi che poi anche lì insomma non so anche i cinesi dovranno fare i conti con con tanti problemi con i quali stiamo avendo a che fare anche noi al giorno d'oggi quindi non lo so il problema e questo Nietzsche lo diceva molto bene quando un sistema di valori scompare come quelli nel nostro caso come i valori cristiani e non ci sia un sistema di valori che sostituisce quello scomparso ecco lì diventa un problema va bene io ti ringrazio allora direi che come bibliografia questa sera direi che il tuo libro sì allora il mio libro si può trovare o sul sito dell'editore corsiero che oltretutto è in promozione per questa settimana visto che ne parlavamo stasera attraverso un voucher che ho scritto promozione oppure potete anche mandare un messaggio sui montagna faccio in modo di farvi recapitare oltretutto è un libro che ha un prezzo abbastanza politico quindi dove sono approfondite tutte le questioni che io stasera ho trattato con estrema velocità e anche con superficialità e anzi ne approfitto per scusarmi se qualcuno si è sentito così urtato nella propria sensibilità da termini utilizzati quando si fa una conferenza invece quando uno fa una registrazione poi uno può andare indietro e rimane la parola sbagliata che hai usato l'aggettivo non corretto quindi insomma visto che la religione è una cosa seria questo è importante da dire e si può anche non credere all'oroscopo cinese ma quando un miliardo e mezzo di persone decidono se fare o non fare un bambino a seconda dell'oroscopo cinese beh allora diventa una questione che riguarda tutti quindi la religione sono assolutamente qualcosa di importante perché guida la vita di miliardi di persone intorno al mondo e e così la visione un po' laicistica che noi abbiamo negli ultimi anni abbiamo visto è è un qualcosa a mio avviso che che così spazio tra l'età della stupidaggia della stupidera e tante superficialità e tante superficialità quindi ecco questo come messaggio conclusivo mi sento di mi sento di dirlo va bene io rinnovo i ringraziamenti a Matteo Mafferadini per averci accompagnato anche questa sera noi ti invitiamo a tornare alla prossima edizione si speri in presenza se possibile finalmente molto bene molto bene e io concludo ricordandovi il prossimo appuntamento di lunedì prossimo che sarà insediamenti e strade del gastadato di Bismantova col professor Giuseppe Giovanelli poi la pausa pasquale ritorneremo il 12 di aprile con storia degli alberi di montagna con il professor Ugo Pellini grazie a tutti e buona serata grazie a tutti